Soprattutto le chiedo, tra poco, lo anticipava Sappino, si voterà un nuovo scostamento di bilancio. Non è che viene preso con troppa leggerezza? Tutto sommato si tratta sempre di debito pubblico e a un certo punto questo Paese dovrà affrontare il tema del debito pubblico. Allora, sì, le cose sono collegate. Prima di tutto, da oppositore di questo governo, noi abbiamo sostenuto pubblicamente l'operato di Conte all'interno del Consiglio europeo già dai primi giorni, che erano quelli più complessi. Ci sembrava che fosse la posizione più coerente, una posizione seria, cioè quella di cercare di levare il potere di veto a singoli Stati. Questa cosa è riuscita in maniera parziale. D'altro canto, però, io penso che bisogna guardarsi bene le cose, perché se no quello che facciamo, come al solito, è alimentare aspettative trasmodanti e enormi che poi vengono deluse. L'accordo è molto importante perché per la prima volta l'Europa emetterà dei titoli, diciamo degli eurobond, anche se non si può usare il nome, e però ha un meccanismo molto complesso di gestione. Ecco, se uno lo paragona al MES, possiamo dire che il Recovery Fund è immensamente più condizionato del MES sanitario. Perché lo è? Perché il 15 di ottobre non va presentato il Piano Nazionale di Riforme, lo dico all'amico leghista, va presentato un dettaglio di tutte le misure che si intendono prendere attraverso i fondi del Recovery Fund, sulla base di questo piano, dettagliatissimo, con gli impatti attesi, eccetera. La Commissione europea fa un vero e proprio voto, ABC, alle singole misure, da cui esce una raccomandazione che poi va al Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze. Ma non basta. Nel corso della vita di questo fondo, mentre arrivano i soldi, c'è la possibilità di verificare in corso d'opera se vengono fatte le cose o non vengono fatte le cose. Ora, secondo me questo è positivo per il Paese, perché lo mette di fronte al fatto che quando si prendono dei soldi bisogna farci delle cose che sono utili, anche perché se i soldi non sono tuoi, ma sono presi in comune con un debito europeo, è giusto che uno ne chieda conto. C'è un altro tema poi che è stato totalmente travisato. Noi non prenderemo 80 e rotti miliardi a fondo perduto, perché dal 2028, per ripagare questi titoli che verranno messi dall'Europa, noi saremo chiamati a mettere 55 miliardi di euro. Quindi nel corso del tempo non ne prenderemo 25. Cosa importante, perché diventiamo percettori netti. Oggi noi diamo circa 2 miliardi, invece adesso diventiamo percettori netti. In realtà ne diamo anche di più. Cioè prendere molto di quello che diamo. Questo è positivo, però non sono 80 miliardi. Se noi diamo l'impressione che sta arrivando una montagna di denaro, con le scene che abbiamo visto in Parlamento di giubilo complessivo, io credo che questa cosa qua bisogna stare con i piedi per terra, a leggersi bene le carte, capire che questo sarà uno sforzo per il Paese in mane e fare i complimenti a Conte per il ruolo che ha avuto, che non è quello di ottenere 200 e rotti miliardi, che quello l'hanno fatto la Merkel e Macron per lui, ma quello però di tenere una posizione nel Consiglio europeo seria, coerente e anche in certi momenti dura, quindi sono complimenti meritati. Agnese Pini, come ti...